Buonasera e benvenuti a Focus Tg. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia del giorno che è quella relativa al coronavirus. Andiamo a sentire com'è la situazione nella marca. Non sono due casi sospetti e voglio tranquillizzare tutta la popolazione, tutta la cittadinanza e tutta la nostra comunità. Mentre l'Italia registra i primi due effettivi contagiati da coronavirus, due turisti cinesi alloggiati in un albergo di Roma nella marca Lulz lavora per rassicurare i cittadini. L'imprenditrice è cinquantenne e il bambino di quattro anni rientrati dalla Cina, la prima con una leggera febbre e il secondo con tosse, non presentano sintomi tali da classificarli come casi sospetti. Sia il Ministero che la Regione Veneto ha creato una rete importante con un protocollo che garantisce. Questi due casi sono arrivati dalla Cina. È stato consigliato alle persone, quindi ai familiari del bambino e all'altra persona, di ovviamente misurarsi la febbre, perché era giusto, e non sono stati isolati. È stato detto loro di rimanere a domicilio per i 15 giorni che servono a capire se c'è un'incubazione. Da protocollo i prelievi effettuati sulla cinquantenne ricoverata per un paio di giorni al caffoncello sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma. I risultati sono attesi per domani sera. Nel frattempo i primi a cercare di arginare la preoccupazione dei trevigiani sono medici e pediatri di base. Io capisco i medici di famiglia che cominciano ad avere tantissime telefonate. La prossima settimana incontreremo i medici per spiegare loro che effettivamente questo problema da noi non esiste. Ci deve essere un controllo per chi arriva dalla Cina, ma la nostra popolazione non ha problemi. Continuiamo a parlare del coronavirus perché l'Italia ha bloccato tutti i voli da e per la Cina e il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. Intanto a Padova la task force regionale lavora a pieno ritmo per comprendere qual è la situazione e si viene a sapere che la coppia di cinesi sul quale è stata riscontrata il ceppo virale ha soggiornato a Verona. Hanno soggiornato una notte a Verona i due turisti cinesi contagiati dal coronavirus e ricoverati a Roma. In queste ore è stato ricostruito l'itinerario del loro viaggio in Italia dopo l'atterraggio a Malpensa lo scorso 23 gennaio. La direzione regionale del Veneto ha inviato i sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 9 Scaligera ad effettuare le indagini necessarie nell'hotel dove hanno pernottato. Una persona infatti avrebbe avuto contatti con i due ed è già stato messo in sorveglianza attiva. Intanto la task force regionale per le emergenze con base all'ospedale di Padova si è riunita venerdì mattina per fare il punto della situazione e decidere i percorsi sanitari per eventuali pazienti affetti da coronavirus. Sono infatti arrivati i test per analizzare i tamponi respiratori. Adesso stiamo veramente arrivando ad avere questi primer per fare questa indagine diagnostica e poi nel giro di poche ore, proprio 4-5 ore, dovremo avere la risposta della presenza o meno del coronavirus nel paziente sospetto. Intanto il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria che consente di velocizzare l'organizzazione degli strumenti per affrontare gli eventuali casi di diffusione del coronavirus. La task force padovana sta monitorando quasi una decina di casi. Ci sono dei casi di persone che sono tornate dalla Cina da meno di 14 giorni e che quindi vogliono alcuni essere rassicurati perché stanno assolutamente bene e quindi questi hanno solo la necessità di mantenere l'isolamento domiciliare. Poi ci sono altri che possono avere altri sintomi respiratori, nella maggior parte dei casi sintomi blandi. Anche questi li testiamo comunque per il coronavirus e dovranno rimanere domiciliati a casa. Solo in alcuni casi abbiamo previsto e stiamo facendo un ricovero ospedaliero. Un virus ancora poco conosciuto ma aggressivo che provoca sindomi respiratorie acute. L'isolamento al momento è una delle forme più efficaci per prevenire il contagio. I medici però avvertono non bisogna creare alarmismi o pregiudizi. Basta evitare i contatti con persone appena rientrate dalla Cina. Arrebbe possibile anche la trasmissione da parte di soggetti asintomatici. È per quello che noi, come del resto in tutte le malattie infettive, dobbiamo essere molto tempestivi nella prevenzione. E fin qui abbiamo parlato della situazione sanitaria regionale ma siamo andati a vedere qual è il mood anche in provincia. Siamo andati a Bassano a chiedere alle persone per strada se hanno paura. Non dicono di aver paura ma intanto le mascherine sono già finite nelle farmacie. Lontana dagli aeroporti internazionali, dai porti e dai grandi depositi di stoccaggio merci provenienti dalla Cina, Bassano sembra vivere la preoccupazione mondiale per il coronavirus quasi con distacco. C'è preoccupazione molta tra le persone che viaggiano, che sia per lavoro, che sia per piacere. Abbiamo molte richieste, in particolare delle mascherine con filtro, però il problema è che sono esaurite. Già da cinque giorni, nel giro di un giorno, sono finite tutte le scorte che avevamo in farmacia e anche chiamando in magazzino non si riesce a recuperare nulla. In attesa che le scorte di mascherine vengano riassortite, i consigli del farmacista per tenere lontane influenza e infezioni in genere sono sempre quelli. Lavarsi bene le mani, l'igiene è fondamentale prima di tutto e basta, poi perché le mascherine non ci sono, per cui l'igiene è personale sicuramente. Fuori dalla farmacia le preoccupazioni tra i bassanesi hanno peso diverso. Per adesso sono tranquilla, se avessi qualche familiare che torna, che dovesse andare là, quella sì, la preoccupazione ci sarebbe di più, insomma. Tutte le questioni di malattie che si sentono in giro ti fa paura un po', comunque ci sono anche tanti cinesi in giro. Oppure per le persone che viaggiano in pensiero? Beh, anche per quello sì. Prende qualche precauzione? No, no, no. Non c'è particolare preoccupazione, giustamente. Perché giustamente? Giustamente perché comunque diciamo che c'è un grande allarmismo, però al momento qui comunque, perlomeno nel Bassanese, siamo abbastanza tranquilli, per cui giustamente ci si preoccupa per viaggiare, giustamente si sta tranquilli per ora rimanendo nel territorio. Facciamo una breve pausa, ci rivediamo fra poco. Ben tornati a Focus, cambiamo decisamente argomento, parliamo di cronaca, perché il giorno dopo la rapina in centro storico a Padova, parla il tabaccaio minacciato di morte, si dice turbato da quell'uomo che non aveva paura di nulla. Mi ha turbato il fatto che questa persona abbia picchiato la polizia e mi ha turbato soprattutto il fatto che questa persona non avesse paura di nulla, come fosse consapevole che non rischiava niente. È tornato al lavoro dopo la rapina subita, è provato il volto teso ma ha determinato a non abbandonare il suo negozio in pieno centro. Alessandro, il tabaccaio di via Monte di Pietà, in pieno giorno, è stato minacciato di morte dal rapinatore nordafricano che poi ha aggredito i poliziotti che l'avevano bloccato a poco lontano in Piazza delle Erbe. Non è la prima volta che Alessandro, in dieci anni di attività, subisce una rapina. Questa volta però è rimasto spiazzato e terrorizzato da quell'uomo che non aveva niente da perdere. Ma è capitato già una rapina a mano armata nel 2010. E come ti sei sentito quella volta? Ma paradossalmente sono stato più tranquillo rispetto a questa volta, perché per quanto l'altra volta avesse un'arma puntata al petto non ho percepito quel totale sprezzo del pericolo e disinteresse nel quello che potrebbero essere state le cause della rapina, cioè le cause del gesto fatto dalla persona, come le ho sentite questa volta. Questa volta proprio c'era una lucida e chiara sensazione di impunità totale. Tabaccherie come Bancomat per i malviventi che vanno a colpo sicuro, sapendo di trovare contanti, visto che non ci sono agevolazioni per i pagamenti con il Bancomat, spiega Alessandro, che nonostante lo spavento e la paura è tornato a lavorare. La situazione però è peggiorata nel tempo, dice. Sempre più i delinquenti agiscono perché sanno di essere impuniti. Mi sono sentito sicuramente e ragionevolmente preoccupato, ma soprattutto arrabbiato e schifato dal fatto che fossero quasi più le forze dell'ordine che avevano paura di dover fermare il delinquente dopo essere stati picchiati e non viceversa. E avete sentito le preoccupazioni del tabaccaio rapinato perché il tema della sicurezza è legato a doppio filo con quello della giustizia e la Presidente della Corte d'Appello di Venezia lancia l'allarme. C'è un problema con gli organici. L'appello è quello di considerare la specialità di Venezia, non solo per la sua bellezza, ma anche per le caratteristiche del lavoro che viene svolto qua. Delle difficoltà maggiori, dovute anche alla logistica, che la gente che lavora a Venezia ha. Questo è il messaggio forte e chiaro che la Presidente della Corte d'Appello di Venezia lancerà il governo durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Per chi lavora in laguna, non solo nella giustizia, servono misure compensative, sia economiche che normative, quindi maggiori punteggi, come avviene già per i dipendenti del settore penitenziario. Solo in Corte d'Appello manca il 36% delle figure previste, con punte di quasi il 50% se si guarda le posizioni amministrative. Certo, il Ministero ha aperto una nuova fase di concorsi, ma l'impressione è che non possa bastare. Certo, i tempi sono lunghi e purtroppo il Ministro attuale si trova a dover affrontare una situazione estremamente difficile perché intanto si sono creati dei vuoti spaventosi e nel frattempo il personale continua a evaporare perché vanno in pensione e a fetti devastanti avrà poi la quota 100. Intanto, per la prima volta, la Corte d'Appello ha visto la diminuzione delle pendenze civili, ma continua l'aumento nel penale. La durata media dei procedimenti civili nel distretto è di 911 giorni, 15 in meno rispetto all'anno giudiziario 2018. La conferma in Cassazione dell'Appello è del 65% per le sentenze civili e di quasi l'80% per quelle penali. Su questo pende la riforma della prescrizione, misura che può essere efficace solo alla presenza di altri tre elementi. Innanzitutto gli organici, ovviamente. Secondo la riforma e la semplificazione delle procedure e terzo un'intensa depenalizzazione perché bisogna ridurre l'afflusso della domanda di giustizia penale perché altrimenti il sistema si blocca. E la questione degli organici è legata anche all'attività sul territorio, in particolare alla lotta alle mafie. Lo stesso procuratore generale parla di omertà e chiede ai cittadini di collaborare. Il contrasto giudiziario è fondamentale, ineludibile, se si vuole effettivamente tentare di resistere all'impatto della criminalità organizzata, ma d'altro lato è soltanto un punto di partenza. Dovrebbe essere l'occasione per una presa di coscienza della collettività. Sulla criminalità nord-est ognuno è chiamato a fare la propria parte, la giustizia da sola non basta. Sono parole importanti quelle del procuratore generale Antonio Mura, che guarda il superlavoro delle procure territoriali sul fronte della lotta alla mafia. Emblematico il caso della Camorra a Eraclea, con l'udienza preliminare ancora in corso nell'aula bunker di Mestre. Ma ci sono anche i processi per l'andrangheta, oltre un centinaio gli indagati. Chiaro che serva l'aiuto di cittadini e imprese ed è lo stesso Mura a parlare di omertà. E anzitutto si eviti di sottovalutare fenomeni come per esempio il riciclaggio, che sono invece proprio l'infa per le associazioni criminali. E d'altro lato si eviti quel pericolo della omertà che diventa lo scudo dietro cui lavorano, prosperano le associazioni criminali. Altro fronte che ha visto la magistratura inquirente all'opera, quello delle banche venete, oltre ai processi principali si è aperta una miriade di sub procedimenti, un vero e proprio indotto, ma anche qui servono risorse ulteriori. Nell'epoca digitale in Corte d'Appello manca una figura specializzata in statistica e il centro informatico di riferimento si trova a Brescia. Senza un rinforzo da questo punto di vista si rischia davvero che tutto questo impegno sia vanificato. Altro capitolo, quanto mai di attualità quello dell'odio sia social che nella vita reale, come per la mafia, anche qui il fattore è culturale. Sensibilizzare la cittadinanza in genere, soprattutto i giovani, alle implicazioni di questi reati, di queste condotte, che altrimenti sottovalutate rischiano poi di portare frutti avvelenati nel lungo periodo. Facciamo una breve pausa. Ben tornati a Focus TG e adesso parliamo della Brexit. Scatta l'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea. In realtà la data è simbolica perché la transizione durerà parecchi mesi, ma il comparto produttivo è già preoccupato per quello che potrebbe succedere. Alla Gran Bretagna piace Made in Italy anche quello targato Padova e Treviso, dove i volumi di esportazioni sono raddoppiati negli ultimi dieci anni. Se lo scoccare della mezzanotte segna il divorzio politico del regno di Elisabetta II dall'Unione Europea, dopo 47 anni di vita comune, di fatto per cittadini e aziende per ora non cambierà nulla. Dal punto di vista doganale e degli scambi con il Regno Unito nulla, nel senso che c'è un periodo transitorio fino alla fine di quest'anno entro il quale negoziare un accordo di libero scambio. Quindi agli effetti pratici le aziende continueranno a importare merci dal Regno Unito come sempre, come è stato in questi ultimi anni. Il dado è tratto insomma, ma il lavoro da fare è ancora lungo. C'è tempo fino al 31 dicembre o anche tappa intermedia fino al 30 giugno per capire se 11 mesi saranno sufficienti per trovare un accordo che regoli la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci o se saranno necessari due anni di un'ulteriore proroga. Una pagina di storie da scrivere su cui passano la vita di molti cittadini e anche di molte aziende. Agli inglesi piacciono i nostri vini, il prosecco, i liquori, i distillati. Agli inglesi interessano i nostri prodotti meccanici come i capi di abbigliamento. L'accordo dovrà dare certezze a cittadini e aziende. È interesse sia dall'Unione Europea sia dal Regno Unito negoziare un accordo di libero scambio che eviti l'imposizione di dazi perché gli interessi principali del Regno Unito sono in Europa e in questo momento interessi commerciali e viceversa. Per noi il Regno Unito è il quarto mercato di destinazione. Nel 2018 abbiamo sportato come Padova a Treviso un miliardo e mezzo di euro. E se l'Unione Europea sta per perdere un pezzo sono ben saldi i cerchi del simbolo delle Olimpiadi. Oggi c'è stato un vertice a Milano sulle Olimpiadi Invernali del 2026. Zaia ribadisce la necessità di un commissario per le opere necessarie. Olimpiadi Cortina Milano nel capoluogo Lombardo. La riunione tra i soggetti coinvolti nell'organizzazione dei giochi invernali del 2026 nella quale si sono formalizzate tutte le procedure per la costituzione della fondazione. L'amministratore delegato del comitato organizzativo Vincenzo Novari è in attesa dell'espletamento formale della carica. Il 17 febbraio è stato convocato il primo CDA, poi il riconoscimento giuridico della Prefettura. Siamo assolutamente in tabella di marcia. Abbiamo un approccio fin dall'inizio che è manageriale e privatistico anche come visione, rispettoso delle leggi e direi anche alla ricerca di un ottimo rapporto con le istituzioni dello Stato che è fondamentale per fare questo percorso di sei anni assieme. Abbiamo la responsabilità non solo dell'immagine ma anche di gestire bene i conti e fare bella figura poi con tutte le gare, i contesti delle Olimpiadi. Soprattutto questa è la prima Olimpiade diffusa. Intanto si attende la legge olimpica. Se ne è discusso ieri in Consiglio dei Ministri. L'esame, ha detto il ministro allo sport Spadafora, dopo la riunione al Pirellone, sarà concluso entro il prossimo Consiglio dei Ministri la settimana prossima. Intanto il governatore del Veneto rilancia l'idea di un commissario straordinario. Io penso che sulla bozza di legge olimpica, da quel che ne so, ci sono già gli estremi, il quadro giuridico per pensare anche a eventuali poteri commissariali. Penso che sia fondamentale, che non vuol dire bypassare le leggi, non fare le gare come le leggende metropolitane fanno pensare, ma vuol dire essere più operativi e soprattutto, glielo dice uno che ha quattro commissariamenti sulle spalle, vuol dire anche avere un interlocutore certo. Rimaniamo in tema di sport invernali, rimaniamo nel bellunese e parliamo di sci, neve e solidarietà. A Falcadi si è conclusa la 37esima settimana bianca per i non vedenti dell'Associazione Visabili Visivi di Roma, che da quattro anni frequentano la località turistica bellunese per la pratica dello sci. Gli atleti ipovedenti e non vedenti che hanno scelto di praticare lo sci nordico sono stati guidati da personale istruttore, sia volontario che appartenente alle forze dell'ordine e forze armate. Per l'esercito sono scesi in campo i militari in forza al settimo reggimento alpini di Belluno, guide insostituibili per i non vedenti lungo un allenno di fondo di Falcade. Il comandante del settimo Stefano Fregona ha espresso parole di gratitudine nei confronti dei suoi uomini, un onore a detto poter partecipare con il mio personale che è molto esperto nella pratica dello sci da fondo a sostegno di queste persone straordinarie. In Val di Zoldo di scena la tre giorni sulla neve organizzata dall'associazione Persone Down e dall'associazione Scilfondo Val Zoldana. Giochi e sport invernali hanno visto protagonisti un centinaio di persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive provenienti da tutto il nord Italia che hanno condiviso le giornate con gli alunni delle scuole locali, del Catullo di Belluno e delle scuole medie dell'Alpago e di Santa Giustina. Sono state proposte camminate con le ciaspole, pattinaggio su ghiaccio, golf, sulla neve a chiudere la manifestazione e la staffetta di sci di fondo. Soddisfatti gli organizzatori che si sono avvalsi dell'opera fondamentale di tanti volontari e della collaborazione di imprenditori, commercianti e privati cittadini della Vallata Zoldana. E chiudiamo con una notizia che sa di cultura e tradizione veneta perché domani a Cittadella sarà di scena il tabarro. È il movimento caratteristico di questo mantello legato in modo indissolubile alla nostra terra. La mano salda nella stoffa, un sicuro e veloce gesto a ruota ed ecco fatto, il tabarro è indossato. Lo vestivano i bisnonni in modo fiero, lo stesso atteggiamento con cui sfileranno gli amanti di questo capospalla, per dirla alla moderna maniera, nella tabarrata organizzata sabato 1 febbraio a Cittadella. Dopo Parma, Casal Maggiore, Vicenza e Oleggio, tappa nella città murata per questo appuntamento organizzato dall'Associazione Civiltà del Tabarro. Il concentramento dei tabarristi è previsto alle 15.30 in piazza Piero Bon per poi proseguire la sfilata lungo il camminamento di Ronda con solo mezzo giro. Momento finale alla Torre di Malta, dove si terrà una conferenza sui fondamenti della civiltà del tabarro. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che questa sera alle 21.15 andremo dalla Focus. Buona serata.